Benvenuti sul mio canale. Oggi si prende cucina. Ho scoperto questa piccola giochina di cucina che è carino, carino, carino. Si può dire che è carino, però è una ragazzata unica. Ma partiamo. Prima di tutto la canzone. La canzone, voi la sentite, ma io la sento, ma va a cagare. Play. Allora, chi è? Che c'è qua? Ok, poi che devo fare? Ok, qua dentro. Poi? Burro. Mi raccomando, un po' di burro dentro. Poi? Ah, c'è questa monona qui che vuole fare? Ah, si, mescolare, mi raccomando. Zucchero. Ok, non so quanto, mette una mezza tasse, boh. Prendete un, mi raccomando, un cucchiaio rosa, eh, dovete usare cucchiaio rosa, mi raccomando. Due mescolate, proprio misera. Poi? Uovo. Ok. Ok. Allora, il bianco è rosso, quindi ti, ok. Bisogna separare l'uomo, capito. Poi, acqua, acqua. Nel rosso, che mi sembra che è il corlo. Sempre il cucchiaio, mi raccomando. Ah, no, qui dentro. Bisogna impastare. Cioè, l'uomo e acqua insieme. Vabbè. Comento te. Poi, dentro questo, il carbuglio qua dentro. Poi, ancora il cucchiaio. Ok. La manola. Mi raccomando, la manola. Poi, coltildo, tagliare. Ok. Poi, pigliamo questo coso qua, che sembra una pasta, per fare dolci. Poi, pigliamo una fetta. Adesso, partiamo qua. Poi, pigliamo, mi raccomando, un pezzo di riemi, andate fuori, tagliate. Cercate di tagliare un altro intero, ma tagliate un pezzo di riemo, e fate questo lavoro qua. Mi raccomando, eh. Mi raccomando. Poi, e mettiamo sul piatto. Mi raccomando, le forme ad essere identiche a queste. Poi. Ah, mo cosa vuoi? Bastun. Cercicassin. Appoggio qua. Poi, ancora. Poi. Bastun. Un po' di qui. Ok. Bastun. Ok. Ok. Una volta fatta questa, che si può fare? La manola. Che si dice? Ah, il burro. No, burro. Sarà burro? Sì, burro. Ah, sì. Poi pigliamo queste qui, e buttiamo qua. Ok. Poi, puttildo. Poi. Ah, sì. Tagliamo. Allora, mi raccomando, dovete fare tagliare anche il bordo. Ah, forse, perché forse avanza. Cos'è? Casasignola? Sì, Casasignola. Eh. Non lo so, quel cavolo è solo, perché boh. C'è un pallino, boh, che non so. Non lo so. Micronde rosa, mi raccomando. Usiate quello rosa, mi raccomando. Apriamolo. Buttiamo dentro questo bordo. Non so che tempuratura ha, però boh. Quindi c'è 50 minuti, 40, 20, 10, eh. Quanto è già veloce. Poi, vedete, ti giro fuori. E li fa. Buttiamo via il forno. Ok. Gelato, boh, qualcosa, boh. Non riesco a capire bene. Qua dentro. Ma per me non sembra gelato. Per me sembra pure zucchero, boh, qualcosa, boh. Non lo so. Zuccher. Ma quindi quello non è zucchero. E' vaniglia. Vaniglia, ah, boh. Sì, vaniglia. Aromi di vaniglia saranno. Una goccia, mi raccomando, una goccia. E la paletta. Roila. No, ovvio. Stavolta viola. Poi. Uh, cuteddu. E tagliamo che vuole qua. Andiamo. Qui ci serve 8 fragole. Belle, 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 grosse. Vi consiglio le 4 stagioni. Molto buone. Amore. Ah. Dobbiamo dividere in due parti? Ok. Cucchiaio rosa, mi raccomando. Poi, qui si va. Ah. Dobbiamo riempire il contenuto. Ok. Poi anche le qua. E anche le fragole. Ok, capito. Poi. Ce l'ho fatto? Mi raccomando. Ah, sì, un forno. Accentiamo il forno. Pentola. Cioccolato. No, cos'è? Cioccolato? Boh, polarsi. E il nome è che non si capiscono bene? Acqua. Questa qui è acqua. Anche se non leggo. Cucchiaio. Eh, qui forse sarà un tipo bagno marino. Io voglio qualcosa di genere. Ok. Chiudiamo. Poi cosa si fa? Ah, sempre un piaio. Poi. E lo versiamo sopra. Che bello. Ma qui è sulla menta. Beh, è che sarà particolico. Sulla menta. E voilà. Il gioco è fatto. Anche il video è finito. Alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie.